Ah, lo sai? Affanculo Non è poco tranquillo Vediamo che le luci Quante potrebbe essere? Cinque volte, quando finisci te ne vai Quanto finisci? Potremmo finisci, potremmo finire dieci e potremmo finire dieci Nuova Non mi piace Capisci a filmare? Ma è un appello di elettore di Boroglio Non mi piace Non mi piace Non mi piace Non mi piace Adesso abbiamo finito Adesso fai un gesto da Miss Capito Marco Adesso un gesto da Miss Adesso lo ti fa da un po' Miss Adesso lo fai da un po' Solo per fare Adesso C'è la possibilità Si Quando te lo ricordi Quando te lo ricordi Ma è tutto in cotta proprio Che ti faccio? Dore Saluta la tua La tua futura amante La futura amante? Si Cosa vorresti dire ad Angie? No Vabbè Sandro non ti ascolta dai Sì Sì Allora Prima di tutto non ce lo metto Ci va automaticamente Però No però Che ne sai Allora raccontaci com'è andata Saluta dall'ultima mattinata di festa Lorenzo 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 Buon Mauro. Buon Mauro. Alessandro. 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 Mando un saluto. Dipende, dipende. Siamo un visitatore. Chi è? Non lo so. Identificati, chi sei? Adesso non c'è. Ha visto che l'ho girato. Adesso, però... ... 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